Ottima prestazione e vittoria al tiebreak per il volley soverato nel match valevole per la terza giornata della pool promozione di A2. Le Biancorosse si sono imposte al Palascoppa sul quotato Millennium Brescia con i parziali di 23-25, 25-23, 25-13, 21-25, 15-8. Una prestazione sicuramente di spessore per le Biancorosse al cospetto di una delle candidate all'ingresso nei play-off che fanno sicuramente morale e danno anche nuova vita in vista delle altre partite che rimangono di questa pool promozione. Una bella vittoria accolta anche nel migliore dei modi dalla società e dal pubblico che fa ben sperare anche per il futuro. Grazie per la visione!